Ciao, presentati e definisciti con tre aggettivi. Mi chiamo Andrea, sono molto timido, affettuoso e timido. Me l'hai detto già! Dai, tranquillo, rifacciamo. Mi chiamo Andrea, sono spiritoso, timido e affettuoso. Sono Giorgia, sono pocolosa, sensibile e sincera. Mi chiamo Federica, ho 24 anni e sono timida, arrabbiosa, impaurita. Io sono Eleonora, ho 26 anni, sono spirituosa, rispettosa, artistica, fantasiosa. Sono serena, ho 35 anni e sono divertente, isolare e allegra. Ciao, mi chiamo Michael, ho 24 anni, mi piace molto ridere, scherzare e sono molto felice. Sono Roberto, sono permaloso, giroso, sono le poche parole. Ok, grazie. Sono rinconiglionito dal somma, sono estetico, sono vulnerabile. Ancora? Quanti aggettivi? Io mi voglio fare queste linee da parlare nel giorno, voglio fioreggere solo con piaghetti. Sono romalesco, mezzo siciliano. Sono fidanzato. Sono Maria, ho 32 anni e sono attenta, precisa e profonda. Sono mia moglie, ho 20 anni e sono simpatico, felice e dolce. Grazie. Grazie a tutti.